Il grande caldo impone atteggiamenti e precauzioni che sono utili per evitare il ricorso al pronto soccorso? È un'emergenza caldo che interessa tutta la popolazione ma soprattutto le fasce estreme, i bambini piccoli e le persone anziane, perché c'è un problema di termodispersione per cui si tratta di reintegrare quei liquidi che noi perdiamo normalmente per queste temperature elevate e devono essere reintegrate in maniera costante, al di là dello stimolo della sete, si devono bere quel litro e mezzo, due litri di acqua, nonostante le persone anziane possano non avere ben presente questo stimolo della sete, la disidratazione è un problema enorme. Quali sono quindi le precauzioni da tenere durante la giornata? Bisognebbe evitare di uscire durante l'orario caldo e noi sappiamo che c'è una temperatura minima e una temperatura massima. Stiamo registrando proprio questi giorni delle temperature minime piuttosto elevate, fino a 26 gradi, dove si sente del malessere, anche notturno. Non si riesce a recuperare durante la notte e di giorno le temperature elevate fanno percepire poi con l'umidità una temperatura ancora superiore. Bisognerebbe evitare di uscire gli anziani soprattutto e chi può, negli orari un po' più caldi. Vestire in maniera adeguata, vestiti leggeri, possibilmente chiari, ma soprattutto ribadisco il fatto di bere e evitare la disidratazione. Gli sbalzi di temperatura e l'aria condizionata possono comprimettere le condizioni fisiche? Ormai l'aria condizionata è una cosa che hanno molte persone. È una cosa piacevole, chi entra in un ambiente condizionato prova un senso di benessere, ma lo sbalzo di temperatura è pericoloso, tanto che si dice che l'aria condizionata vada regolata in maniera intelligente alcuni gradi al di sotto che sono le temperature esterne. Lo sbalzo può provocare tutta una serie di disturbi a livello dell'apparato respiratorio, poi sudorazioni, malesseri che vanno evitati. L'alimentazione invece può darci una mano per contrastare questo periodo di siccità? L'alimentazione serve per reidratare, per cui bisogna dare spazio soprattutto a frutta e verdura, che contengono sali minerali, che noi perdiamo con la sudorazione e contengono soprattutto liquidi che vanno a reintegrare il patrimonio idrico che noi dobbiamo assolutamente mantenere. Perché se perdiamo il patrimonio idrico, perdiamo gli elettroliti, gli elettroliti sono degli elementi fondamentali per il funzionamento di tutte le cellule. Una cosa che viene pensato, gli elettroliti non ben regolati possono provocare eritmie, tutta una serie di patologie che vanno assolutamente evitate.